I love Abruzzo è lo slogan che accompagna il grande tennis che torna in Abruzzo che abbraccia l'Aquila a Pescara e altri territori. Il circuito è stato presentato in regione dall'assessore allo sport Guido Liris, dal direttore del torneo Luca del Federico, dal presidente del Conezzo in Bastaro e da Mauro Scopano, imprenditore aquilano e main sponsor. L'ETF World Tennis Tour 2021 prevede quattro tappe internazionali all'Aquila, al Peppe Verna e a Pescara al Prati che partono dal 20 giugno e terminano il 22 agosto, mentre il Tour nazionale tocca l'Aquila, Pescara, Ortona, Tortoreto, al Badriatica, Chieti, Carzoli, Avezzano e Basto dal 13 giugno al 31 luglio. C'è una grandissima voglia di tornare alla vita, l'Abruzzo si è sempre contraddistinto per il coraggio nell'affrontare i grandi eventi, forse anche per la capacità di reazione che abbiamo accumulato, che abbiamo costruito nel tempo dopo le tragedie. Oggi è il momento di credere nei grandi eventi e con i grandi eventi nella ricaduta socio-economica degli stessi sul territorio. Un progetto unico in Italia, forse in Europa, un'idea decisamente innovativa che la Regione ha voluto sposare in pieno, coinvolto tutto il territorio regionale, uomini e donne nella stessa misura nelle competizioni sportive, con l'obiettivo di portare il Regione ai migliori. La Coppa presentata è con il fiore tipico dell'Abruzzo, che si trova nel Parco Nazionale e che si chiama Pinguicula. Si articolerà in nove tappe nazionali, si parte domani dalla città dell'Aquila e quattro tappe internazionali per ultimare il 22 agosto col match point, idealmente che andrà a unire tutta la Regione e la città di Pescara. L'obiettivo è quello di portare tanti giocatori di seconda categoria, che sono la fascia più importante in Italia, per far conoscere il nostro territorio, senza creare alcun problema a livello della Federazione, si è cercato di individuare delle tappe idonee a tutto il circuito, sia quello nazionale che internazionale. Il circuito internazionale, le due tappe della città dell'Aquila, maschile e femminile, già sono in calendario internazionale a Londra, mentre su Pescara, ma credo che non ci saranno problemi, e il side-check sarà fatto la settimana prossima col supervisor. Un'iniziativa importantissima, una delle poche Regioni italiane che organizza un evento di questa portata, coinvolgendo un pochino tutto il territorio abruzzese, con una grande possibilità di promuovere il nostro territorio attraverso lo sport.